Sì, al primo risarcimento agli eredi delle vittime dell'ecidio di Civitella. Arriva dal fondo PNRR, istituito presso il Ministero dell'Economia per il pagamento dei danni e riguardo una famiglia pilota che potrebbe far da apripista alle altre. Si tratta di quella dell'avvocato aretino Roberto Alboni, nipote di una delle 244 vittime della strage nazifascista Metello Cesarini, per il quale è già stato avviato l'iter di liquidazione di circa 900.000 euro, come stabilito nella sentenza di condanna all'ergassolo di Max Joseph Mild, ritenuto nel 2008 come unico colpevole. Alboni all'epoca, davanti al Tribunale Militare della Spezia, fu l'unico a chiedere ed ottenere la citazione in giudizio della Germania come responsabile civile della strage. Ad opporsi fu il PM Marco De Paolo, ma i giudici diedero ragione all'avvocato, disponendo il risarcimento a carico dello Stato tedesco. La Germania si è sempre ripiutata di pagare, sino a che non si è arrivati all'istituzione del fondo a carico dello Stato italiano. Da mesi l'avvocatura di Stato eccepisce però la prescrizione civile che scatta dopo dieci anni, in tutti i casi di richieste danni. Nel caso dell'avvocato aretino però c'è già stata la sentenza di condanna. Adesso dovrà essere istituito un tavolo tecnico per le modalità concrete della liquidazione. Lo stesso presidente Sergio Mattarella Civitella, lo scorso 25 aprile, aveva lanciato un appello contro la prescrizione dei reati contro l'umanità. Adesso l'avvocato Alboni sta portando avanti anche una nuova azione civile per conto di altri 170 eredi di 81 vittime.